Eccellenza, il suo messaggio ai Tarantini appena insediato. Sono contento di essere qui in mezzo a voi, voglio lavorare per questa terra, lavorare nell'interesse dello Stato e della comunità tarantina. Ci sono molti problemi da affrontare, il tavolo della Prefettura è aperto proprio per il confronto. Da parte mia c'è l'impegno quotidiano a cercare di trovare una risposta alle varie problematiche che verranno rappresentate. Il Prefetto serve anche e soprattutto a collegare bene un territorio alla capitale, a Roma, ai centri nevralgici delle scelte politiche ed economiche. Taranto ha bisogno di velocizzare le pratiche in corso. Taranto ha un vantaggio rispetto agli altri perché ha un tavolo già aperto, un tavolo governativo presieduto dal Ministro De Vincenti che si riunisce mensilmente qui a Taranto. È chiaro che da parte mia come rappresentante dello Stato c'è l'impegno a evidenziare tutti gli aspetti che possono essere portati all'attenzione di questo tavolo e all'attenzione del governo per far sì che tutte le domande, tante, che i tarantini stanno ponendo trovino una risposta veloce.